Catorino finalmente si parla di Foibe, in una città dove posso dire che prima di noi non se ne parlava quasi. Prima che iniziassimo a fare queste manifestazioni quasi nessuno conosceva l'esistenza di questa targa e quasi nessuno sapeva la storia delle persone che abitano in queste case alle nostre spalle.